Questa non è la sfoglia, è la flora. Una confettura di pistacchio e cioccolato bianco, ok? A cream of pistacchio and white chocolate, ok? Let's start. You need an oven pan like this. I'm using the whole material form, così. Rotonda. La mettiamo dentro la materiale, the round one, and we put it inside the oven pan. Con la fochetta, with the fork, you make a hole inside the pan. Facciamo i buchi dentro la padella. Tagliare la parte necessità, ok? We cut off this side, the excess side. 24 buchi with the scissors. We cut off the excess paper. La nostra confettura, a cream. Iniziamo a spammare. Spammiamo la parte di cioccolato bianco, ok? Spread the white chocolate. Vedete? Ok? Spendiamo quell'altra flora. Andiamo a fare delle stricchette, ok? Abbastanza fine. Così. Adesso iniziamo a mettere in mezzo, ok? Un'altra stricchette. Un'altra stricchette. Un'altra stricchette. Un'altra stricchette. Ecco qua. È pronta ad andare in forno, ok? L'avete visto? Andiamo a infornare, ok? In questo grittio di buono, ok? Tan 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 tan. Guardate la nostra torta. Guardate. Un po' di zucchero a bello. Un po' di zucchero. pensaggio tagli insieme il cioccolato e il pistacchio buonissimo o semplicissimo come sempre